Nel dibattito pubblico italiano la storia è stata usata come una clava per indicare torti subiti, per chiedere e invocare vendette o resistenze. Forse invece ci può fornire degli insegnamenti di saggezza, riconoscere come i periodi di massimo sviluppo civile, culturale e economico della penisola italiana sono stati lungo i secoli, proprio quelli in cui l'Italia si è messa in armonia con la sponda sud del Mediterraneo, ne ha accompagnato i commerci, la crescita, il dibattito scientifico e anche quello religioso. Dai tempi delle repubbliche marinare fino al rinascimento, fino a tempi più recenti, noi siamo cresciuti quando crescevano anche i nostri vicini. non dobbiamo temerli ma semmai aiutarli e frequentarli di più. In questo percorso c'è contaminazione reciproca, c'è incontro, ci sono personalità che difficilmente puoi stabilire se appartengono all'una o all'altra sponda di questo mare e questo mi pare un tesoro, non è una perdita di radici ma è un'esperienza che ci aiuta a crescere.